Buona giornata. È proprio vero che nessuno di noi non compie errori, anzi è proprio la capacità di compiere errori che ci contraddistingue e che ci aiuta anche a migliorarci e a imparare come sappiamo dagli errori. E questo vuol dire una grande cosa, che non siamo perfetti e che la perfezione non possiamo raggiungerla nei modi, nei tempi, nei desideri che vogliamo. Ecco allora come riconoscere questa esperienza dell'errore non significa starci, non significa gongolarsi in un senso negativo in quello che siamo, ma significa appunto poterne uscire sapendo che la perfezione non esiste. E se non lo è per noi non lo è anche altrui, perché a volte il chiedere la perfezione agli altri è proprio un qualche cosa, chiamato anche dell'irio di onnipotenza, che nessuno di noi ha. Quindi chi lo sa, là dove siamo, nei legami che viviamo oggi, riconoscere che questo atteggiamento ce l'abbiamo tutti e che nel convivere possiamo imparare anche a migliorare. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.